L'obiettivo è quello di far conoscere sempre di più il percorso dei rifiuti, sulle tracce dei rifiuti è un report che apre ad una dimensione nuova, fa vedere nel dettaglio quali sono le frazioni di rifiuto che vengono destinati al circuito del riciclo e soprattutto del riuso. E' pensare che in questi ultimi anni si è fatta una notevole sensibilizzazione sulla raccolta differenziata e gli obiettivi che abbiamo raggiunto rappresentano un grande passo in avanti. Quasi tutti i comuni ormai sono super la soglia della raccolta differenziata ma la parte nobile diciamo che ci deve far sorridere e raggiungere nuovi obiettivi è quella della percentuale del riutilizzo dei materiali che si attesta all'83.4%. E' un report che Marche Multiservizi ha avviato ormai da otto anni proprio nell'ottica di dare trasparenza, risposta ai cittadini e questa è la cosa più importante perché poi nel momento in cui si sensibilizza, si chiede ai cittadini di fare uno sforzo e dare un contributo al tema ambientale, ovviamente la domanda che tutti facevano era ma poi dove finisse? C'erano anche alcune battute sul fatto che poi tanto dopo si va tutto assieme in discarica. I risultati sono estremamente positivi perché ci dicono che sul 72% di raccolta differenziata, quindi a percentuale quantitativa, abbiamo circa l'84% del recuperato e quindi del riciclato e questo fa sì che con un 56-57% di riciclato abbiamo già raggiunto l'obiettivo dell'Unione Europea fissato al 2030, quindi diciamo che siamo veramente avanti. Questo però non ci deve ovviamente far abbassare la guardia, anzi deve essere un punto di partenza per fare in modo che l'84% che è in funzione anche della qualità della raccolta differenziata possa essere migliorato. Grazie a tutti.